e ciao ragazzuoli benvenuti ben ritornati qui nel mio canale io sono rick andiamo oggi a fare l'unboxing di un gioco che insomma in molti aspettavano io sinceramente non ho mai giocato a uno di questi titoli però insomma mi andava di acquistarlo quindi ho comprato Dragon Age Inquisition la deluxe edition dicevo non ho mai giocato li ho visti ok però giocati personalmente no i predecessori so che il secondo è stato criticato da molti considerato un po' un fiasco perché era un po' più action rispetto al primo vediamo se questo soprattutto ovviamente per gli intenditori per i fan a canite della saga sarà un riscatto io non posso dirvelo però posso dirvi che da subito mi ha incuriosito mi è piaciuto l'impatto che ha avuto l'impatto che io ho avuto con questo titolo è stato piacevole mi è piaciuto sin da subito e quindi niente me lo giocherò magari avevo intenzione di non so se la cosa vi può interessare di farlo magari su twitch vediamo che magari con delle live quindi una cosa un po' più dei video un po' più lunghi ma vediamo insomma la seconda anche se vorrete vedere questo titolo o meno allora andiamo a vedere che cosa include la deluxe edition allora vabbè la copertina è la stessa della normale con la differenza è ovviamente la dicitura deluxe edition pensavate voi eh dietro guidali o muori ovviamente aspettiamo che metta un po' a fuoco la fotocamera ovviamente dicevo c'è ci sono le tre righe classiche di introduzione al gioco che non staremo qua a leggere perché so che a molti non interessa e anzi da fastidio perché allunga troppo il l'incedere del video io sono già lungo di mio vediamo semplicemente quello che è scritto sotto esplora liberamente continuo a perdere fuoco la telecamera ok esplora liberamente unisciti alle leggende e poi la deluxe edition include che è un po quello che ci interessa il trono di skyhold esclusivo e due cavalcature esotiche equipaggiamento fiamme dell'inquisizione colonna sonora digitale e molto altro ancora combatti insieme a tre amici in sessioni multigiocatore cooperative questo è davvero davvero interessante vediamo poi quali sono le sue caratteristiche un giocatore giocatore in rete da 2 a 4 ovviamente l'iscrizione al plus è obbligatoria è richiesta e 45 giga di spazio minimo su hard disk ovviamente poi abbiamo le classiche cose riproduzione remota supportata su playstation vita mito 80p e la funzione di vibrazione del 2 shock 4 andiamo ad aprire e ad unboxare appunto l'oggetto in questione tengo da una parte un attimo ragazzi per vedere se ci sono codici ovviamente c'è il classico cd di gioco blu ray dopodiché abbiamo una miriadi di robe tra cui questo che non serve assolutamente a nulla ovviamente è semplicemente le informazioni sono informazioni del gioco e basta e dopo abbiamo un voucher per scaricare appunto il contenuto della deluxe edition ricordiamolo cavalcatura corazzata fiamme dell'inquisizione armatura fiamme dell'inquisizione armi fiamme dell'inquisizione alla rosso trono di skyhold e unicorno di palude contiene anche la colonna sonora digitale e i bauli per il multigiocatore quindi ragazzi è semplicemente un codice per queste cose secondo me potevano sprecarsi e mettere la colonna sonora fisica come abbiamo visto magari in lord of the fallen venduto tra l'altro a un prezzo minore e quindi questa maggiorazione del prezzo per questi contenuti secondo me potevano fare qualcosa di meglio bene ragazzi non c'è molto altro da mostrarvi ripeto se volete vedere qualche gameplay oppure giocarlo insieme magari su twitch sia ecco che voi lo vediate oppure che voi vogliate proprio partecipare nel volentieri fatemelo sapere nei commenti vi ricordo di lasciare un mi piace per farmi capire se avete gradito il video vi ricordo di mettere mi piace anche sulla pagina di facebook che trovate in descrizione e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzuoli ciao